buonasera a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul mio canale questa sera andiamo avanti con la seconda puntata del gameplay di vita in campagna se non avete visto la prima riguardatevela e sappiate che è in uno stato tutto un po confusionale perché sono veramente tantissime le cose da fare e io voglia di provare a farle tutte ma non perdiamoci in chiacchiere io vi invito come sempre scrivervi al canale attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti e noi ci vediamo troppissimo in partita ed eccoci qui in partita ragazzi allora come potete vedere intanto vi faccio vedere che ho allargato un pochetto questa casetta per ora il giardino è già da rimettersi tutto quanto a posto quindi ora manderemo il nonno però ho voluto piantare altre cose che ci serviranno appunto per tutto quello che dobbiamo compiere allora stavo per chiedere a emerson di estirpare l'erbaccio ma credo sia ancora un po troppo piccolino è anche vero che appunto tutti quanti anche i bambini potranno partecipare alle attività come la cucina e il giardinaggio però mi sa che emerson è ancora un pochino troppo troppo piccolo facciamo una ramanzina a chi è dei due a rocchi di bere delle pozze magari fagli una ramanzina cosa combinando ma con quel telecomando lì permettiamoglielo tanto concediamoglielo perché appunto è veramente un bambino prodigio a tutto tutto quanto quindi c'è poco da fare ma facciamolo giocare con altro a poi come potete vedere appunto ho aggiunto dei giocattoli per il piccolo poveretto perché veramente non aveva assolutamente nulla su non la televisione e gironzolare attorno a casa quindi non mi sembrava proprio adatto ok allora nel frattempo la casa come vi ho detto del mondo la sto costruendo mi sono dimenticato mi ero dimenticata ad esempio le arnie con le api eccetera eccetera e mi sono venuto in mente così perché ho guardato un attimo tutto quanto tutti quanti tutto quello che c'è nel catalogo di attività abilità però me l'ero completamente dimenticate vabbè comunque vedremo ve l'ho detto tra qualche puntata lo vedremo in lotto nuovo il nonno ha le sue commissioni che deve le sue quest che deve ancora appunto sbrigare mamma mia quanta roba che abbiamo da fare però credo di avere già dei funghetti piantati non sbaglio lungo verdeggiante no abbiamo poco e niente dobbiamo assolutamente andare a trovarli sti funghi come vi ho detto ci sono tantissime tantissime cose che vanno sperimentate provate e gustate al cento per cento adesso ci troviamo col nonno nel bosco di bramblewood ad esempio per cercare questi benedetti funghetti perché non mi va di andare sempre a comprare tutto e qui appunto come potete vedere c'è Sofì la chiocciola gigante nella quale possiamo scattarci un selfie e lo faremo e poi cercare e di solito si trova appunto qualcosa sotto e come segno come segno appunto distintivo del paese si deve magari rimettere qualcos'altro per la prossima persona che verrà a cercare adesso vediamo di farlo ed ecco qua il nonno che può scattarsi la sua bella foto bella poco perché insomma è notte quindi insomma ok ci siamo scattati la foto vediamo cosa troviamo ha trovato qualcosa e come vedete dice appunto già ne ha trovato qualcosa forse dovrebbe nascondere a sua volta qualcosa da far trovare a qualcun altro le tradizioni di fincic vanno tramandate bene bene quindi vediamo che possiamo nascondere noi nascondiamo una parte per l'aggiornamento idraulico nascondi l'oggetto parte per l'aggiornamento idraulico bene e noi abbiamo trovato che cavolo abbiamo trovato non lo so allora adesso richiamoci qui alle rovine dove si possono trovare probabilmente i funghetti vediamo un po raccogliamo la ciocco va raccogliamo tutto perché io mi sono fatta un giretto con altri sim eccetera ho guardato un po però sinceramente per me è stato molto difficile trovare 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 le svariate piante quindi non so per voi se appunto lo avete fatto avete già sperimentato sapete dove è più facile trovare di quali stagioni si trattano in quali stagioni crescono i frutti magari scrivetemelo nei commenti ci tengo davvero se ne sapete di più scrivetemelo nei commenti quindi condividere con tutti è solo un bene forza non so che le strade sono perché poi qua le strade sono lunghe e sono tutte da farsi a piedi anzi adesso forse compreremo la bicicletta che magari perché dopo poi sim si stanca non bisogna andare in bagno con una velocità assurda ok allora vediamo un po se qua c'è qualcos'altro e niente ragazzi quindi io oggi ronzoato un po aspetto ad andare a casa ci sono i funghi fungo strano fungo strano le ho trovate giusto adesso mentre correva però insomma nel frattempo abbiamo comunque trovato una rana e quindi stiamo mandando avanti appunto l'aspirazione di vita allora un fungo piccante un fungo verdeggiante fantastico adesso andremo a casa e li pianteremo subito perché come vedete appunto il nonno è distrutto bravo nonno vado a mangiare qualcosa poi vai a dormire opp nel frattempo è sveglia io posso quasi dire che me la sento di lasciare emerson da solo con il nonno che dorme dai bravo gioca tu lei non sopporta l'arrivedamento retro meglio farle cambiare un po' lo stile eh concediamo giusto a Hope di piantare questi due funghi perché il nonno è veramente distrutto quindi lei nel frattempo come potete vedere ha fatto questo punto croce medio arcobaleno e questo punto croce questo telaio piccolo con le forme che adesso magari poi esporremo quando saremo in una casetta un po' più grande ancora basta fagli una ramangina sul mangiare la cacca è impossibile è impossibile veramente non c'era mai stata questa interazione oh Rocky ha imparato a non mangiare la caccia per fortuna allora lei può comprare del fertilizzante? direi sì fertilizzante per prodotti agricoli abnormi no? fertilizza il prodotto agricolo no? noi abbiamo solo quello vitalità vi ricordo che sabato c'è appunto la fiera del frutto no c'è la fiera dei polli di Finchwick quindi dobbiamo riuscire con i nostri polli a renderli più più felici e belli possibili no non me le combinare tutte ti prego dai che ti sporchi disciplina il comportamento recente calma chiedi di non sguassare nel gabinetto adesso mamma va in paese dopo noi siamo al bagno siamo qui al pub le braccia dell'ognomo di Sara e però io volevo parlare appunto con loro che vendono i prodotti presentazione amichevole lei è Kim che appunto è la proprietaria del negozio di alimentari e vediamo che cosa ci vende parla a cuore come si usa Enford perfetto e poi compriamo qualcosa non sto facendo delle spese troppo assurde voglio solo vedere se appunto questi funghetti li troviamo o meno più che altro quelli ecco e forse anche i premietti per animali così ne ricaviamo appunto le i fertilizzanti assolutamente sì e ne ricaviamo appunto le ricette va bene va bene quindi per adesso ci siamo direi abbiamo trovato tutto quanto e possiamo possiamo tornare a casa appunto a fare il bagnetto al nostro Emerson ok vedete Hop ha scoperto delle informazioni sull'oggetto latte alla fragola latte alla fragola preparazione ok uso bere latte alla fragola farà affiorare i desideri più reconditi di un sim ok ricordiamoci quindi di mettere tutto quanto in frigo io che sono completamente smemorata vediamo un po' come il nostro pollaio è leggermente sporco quindi ah no di questo se ne occupa dopo dopo che hai mangiato pulisci il pollaio e poi spargi il mangime intorno a te e raccogli le uova abbiamo cinque uova raccoglibili fantastico semplicemente fantastico finiremo col dover comprare più pollai ecco che Hop si va a occupare del pollaio lo sta pulendo vediamo un po' se le uova che abbiamo abbiamo un fertilizzante abbiamo trovato un fertilizzante super vitalità vediamo un po' se le uova che troveremo saranno da cuova o meno questo è da cuova questo è da cuova da cuova no da cuova no abbiamo trovato tutte queste cinque uova wow fantastico abbiamo trovato due uova al cioccolato un uovo arancione e due uova normali dunque quindi se noi adesso volessimo per dire provare a creare dei dolcetti crea dolcetti per animali al frigorifero noi abbiamo modo di creare solamente il dolcetto amichevole impara a preparare il dolcetto flertante ah fantastico adesso possiamo prepararli più o meno tutti se abbiamo ok ok ho capito ho capito allora scusate parentesi ho fatto tutto questo ho fatto tutta questa pausa cercando di capire su come si imparano a creare i vari dolcetti per animali da qui si va in azioni crea dolcetti di animali per animali dal frigorifero e praticamente ti dà tutti i dolcetti e ti dice di che cosa c'è bisogno automaticamente se tu li hai comprati clicchi sopra e praticamente ti viene fuori impara a creare la ricetta e dopo aprendo il taccuino hai tutte le ricette di quello che serve per crearli e quindi hai sbloccato la ricetta in sé grandi linee dovrebbe essere così comunque noi invece ci occuperemo dell'inscatolamento surrogato della carne oppa vai nel pollaio che si sta si sta schiudendo l'uovo vieni qua e fai schiudere le uova vediamo un po' e chiamiamo i polli a mangiare magari veramente veramente le giornate sembrano troppo corte con questo DLC e non si riesce cioè sembra quasi di non riuscire a fare a combinare nulla a meno che non si stia a giocare per ore e ore e ore tutti di fila quindi ripeto vi chiedo scusa spero di essere più sintetica possibile vi chiedo scusa nel caso impiegassi tanto tempo e quelle puntate fossero particolarmente lunghe nel senso che durano 20-25 minuti come la scorsa la prima puntata appunto ah e poi volevo ricordarvi se non conoscete la storia di Hope e Emerson nella puntata nella serie miniserie principale di Arredi da Sogno c'è tutta quanta la loro storia quindi se avete voglia di farvi due risate in un altro diciamo ambiente tipo di ambiente molto bello anche quello veramente molto affascinante che rivedremo poi andate pure a vedere quella di miniserie su nonno ora mangi fai pipì e dopo andiamo in paese ed eccoci qui di nuovo in piena notte sto facendo girare il nonno per cercare le varie piante e stiamo raccogliendo di tutto non ha trovato niente di commestibile nel cumulo di funghi ha trovato un fungo verdeggiante vediamo che cosa altra troviamo stiamo regalando una rosa di Natale agli uccelli vediamo un po' spettacoliamo sui polli socializziamo chiedi del valore di nuovo oggi vediamo un po' nel frattempo non credo siano stati trovati particolari funghi fungo verdeggiante il fungo normale e poi abbiamo trovato delle rame vediamo un po' se troviamo qualcos'altro niente direi che torneremo a casa perché appunto prima che calino tutti i bisogni siamo proprio sconvolti meglio essere a casa ok nel frattempo andiamo così in bagno andiamo a mangiare ah come potete vedere ho cambiato vari vestiti ho aggiunto svariati vestiti appunto del nuovo di ansì a tutti quanti adesso è messo sempre in pigiama però pian piano li vedremo tutti anche perché adesso siamo in estate ancora ok appena si svegliano cioè appena si sveglia nonno poi proviamo ad andare in paese e vedere se riesce a sbrigare qualcosa delle quest che ha forse ne abbiamo prese un po' troppe per cominciare però ve l'ho detto c'è tanta voglia di provare 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 allora no no ti sei già alzato bravo 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 andiamo in paese ottieni il pacco del paese da qualcuno presentazione amichevole e vediamo un po' se riusciamo a ottenere sto benedetto pacco chiedi il pacco del paese cos'è sta cosa la spudoratezza di certa gente le dimostrazioni pubbliche di affetto nella mia cittadina non sono tra le cose che tollero da queste parti ti conviene comportarti bene se non vuoi attirarti le mie ire fatto niente grazie al cielo è da un po' che mi porto in giro questo pacco e stavo giusto aspettando che qualcuno venisse a ritirarlo assicurati che arrivi a destinazione quindi io lo devo consegnare al proprietario del pub ovvero a Sara grazie cara grazie allora socializziamo un attimo che dobbiamo farlo è solitaria brava beh se per una volta volessi renderti utile potresti sempre andare a prendermi qualche focaccina al burro mi piacciono morbide come il tuo cervello com'è simpatica scherzo ovviamente grazie ok Agnes io ti ringrazio da morire però presentiamoci qui più che altro perché volevo vedere se trovavo i mirtilli selvatici mi sa che non li abbiamo ah no li abbiamo li abbiamo li abbiamo vabbè presentiamoci giusto nel frattempo condividi consigli per amante di esterni non mi ricordavo che avesse acquisito questo stile di vita era allegra buona adesso andiamo al pub diceva Kim se vuoi che il tuo cibo si conservi a lungo e hai una cucina prova a scatolarlo e puoi scatolarne ogni genere zucche lattuga angurie se poi aggiungi un pizzico di zucchero alla frutta te la hai marmellata chi non adora la marmellata ok dobbiamo andare qui da Sara consegnare il pacco consegniamo il pacco del paese perfetto e poi dobbiamo consegnarle i quattro mirtilli selvatici oggi Johnny è l'amico fieristico di Kim che è felice di offrire a Johnny un omaggio per essere membro della comunità del paese se Johnny vuole portare avanti la tradizione dell'amico fieristico quotidiano deve trovare un abitante di Hanford e offrirgli un omaggio di Finchwick che crede possa gradire auguri ok altre amichevole vediamo un po' se me lo dà di dare il regalo artigianale consegniamo anche i mirtilli selvatici e dovremmo aver sbrigato anche questa benissimo non abbiamo ancora i funghi offri un omaggio di Finchwick offriamole un mirtillo io non so neanche cosa ricevuto un lampone dunque ridunque oh accipicchia ha un aspetto divino vorrei tanto che accettassi queste ricompense in segno del mio apprezzamento ti torneranno utili la prossima volta che preparerai un pasto ora ti prego di scusarmi ma ho del cibo gustoso da divorare volevo solo vedere se avevamo i funghi ma ci manca il fungo affascinante allora dopo vediamo solo di andare a vedere di comprarlo se lo troviamo e poi dopo terminiamo con la puntata perché sono sicura che è venuta più lunga che mai nonno dai stasera non stiamo a fare gli eroici cavalieri per favore torniamo no andiamo a vedere se troviamo questi funghi che c'è chi vuole vedere sbrigate le tue faccende forza 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 mi sono persa io giustamente non guardo l'orologio ma è mezzanotte e 40 quindi adesso non torniamo a casa e niente ragazzi allora io concluderei piantando il fungo nuovo che abbiamo ditemi che è nuovo fungo piccante fungo fungo verdeggiante no mi sono sbagliata però abbiamo il lampone da piantare e lo piantiamo subito ebbene ragazzi allora mentre il nonno torna se ne va a dormire si è occupato dei suoi bisogni Hope è venuta un attimo a parlare alle piante e Emerson è qui che gioca tutti stanno bene noi siamo riusciti a sbrigare due faccende del nonno due quest del nonno e quindi ci siamo messi avanti nella prossima puntata sbrigeremo la terza ripeto spero di essere stata sintetica spero che voi vi siate divertiti se così mettete un like al video e vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche sull'uscita dei prossimi contenuti noi ci vediamo alla prossima puntata buona serata a tutti grazie